Zelda Vieni a me Allora Snow Vai Ok Andiamoci il bello scudino Eh sì me lo sono ricominciato già una volta Fatto qualche metro E così faremo Allora ce ne andiamo prima di qua Scendi Scappiamo il fogone Va a cagare Sì sono io Il pesce volante Hai trovato la spada Deve essere tua Perché è il tuo nome inciso sopra A scanso di equivoci Spadino vai È tutta Scoppiamo Oh Malissimo Ai 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 Vediamo un po' cosa c'è qui Ma va a cagare Allora No Non si deve andare qui E torniamo al village Fondamentali Fa un culo Nemmeno uno Anche questo E Risalendo sopra E risalendo sopra Anche nel pozzo Anche nel pozzo qui Vediamo un po' Il cuore Un pezzo di cuore Vai Il gufo Ok Andiamo Panculo 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 Ho preso una ghianda In mezzo ai danni che subisci Panculo Che non si gira Va bene Cercherò di non far apparire più Questa scritta mai più Ma prima di qua Ok No Fa cagare Maledetto piccione Pistrello Non piccione 50 Vai A tutta Che tu sia maledetto Ok Nulla qui Distruggiamo C'è spuglia Non nasce nulla Oh Come ho fatto A aprire quella Ma Non ci Credo Cioè Vaffanculo No Ma Vaffanculo Ok Adesso Un po' di calma Sono troppo frettoloso Allora Adesso Con la polverina Scappa Ok Questa è una ghianda Vai Frammento di cuore Imprendibile al momento Qui non si può andare Questo è da schivare Andiamo di qua Un bel funghetto Un funghino potrei fare la polverina Vai Ok Fai il fungo Yes Stai attento Che non ce n'è molta Ok Tutto Ha una grande varietà di cose Va bene Allora Per il momento Tu Statti lì Riprendo anche Il cuoricino Che mi hai tolto Maledizione Ok No Non ci si può neanche avvicinare A questi cosi Che appare Questa maledetta scritta Allora Andiamo di qua Con attenzione Essendo lontano No Fan cura Mi hanno nemmeno rimborsato il cuoricino Eccolo Anche mi servito No No Ehm Me la tornavo di qua Andiamo su qua Ah eccolo Polverina a questo coso Ok Prima cosa che ricordo È di aver trovato Un bel fungo sul coso Poi ho fatto un strano sogno Ero un procione No Non era un sogno Basta anch'io Se vorresti meglio riposare Prima di tornare Ok La chiave a coda Beh Piccione Pesce volante Ti aspetta Non farlo aspettare No Per di qua Oh Oh Un telefono Vediamo Sì Faccio uno squillo Se ti pardi Allora Non è qui Mard Allora Allora Un altro che Non è qua Non è qui Allora Allora spazziamo via tutti ora vediamo se sta qua shop cosa c'ha qui la pala dobbiamo prendere qui ah infatti non te lo chiedo salvo direttamente qui anzi no c'ha il quick si no si qua sto tizio questi sono i miei figli piacere più tardi potrei perdermi sulle colline quindi se passi cercami ok cosa c'è più tardi potrei perdermi cioè non c'ha andare non c'è più tardi non era qui alla fine altro telefono di quella della fottuta libreria non mi importa nulla non c'è più tardi non c'è più tardi non c'è più tardi però non c'è più tardi non c'è più tardi vediamo se è questa la strada sì, mi sa di sì mi sa proprio di sì quest'albero ce la sorretta qui? ok devo buttare lì sotto uno no, no, no ahia ho trovato la bustola ora puoi vedere dove sono nascosti i forzieri dell'incubo nuova capacità non bisogna, ti dice dove sono le chiavi nella stanza ok ora puoi aprire una porta ma tu intanto tornatene qui dentro il tuo buco va bene gioia gioia mia ok andiamo di qua abbiamo il cubettino oh ho inciso qualcosa non puoi leggerlo perché un pezzo non c'è ok molto più leggero ok nooo ma davvero perché non salta questo salto troppo dopo maledetto oh un po' di qua nooo 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 tu sei fottuto ma vaffanculo dai non ci credo ma sario andiamo di qua ma dai cazzo so ma cerco di essere un po' più prudente ma vera ok oh oh finalmente la mappa prendo il tasto set e guardala cazzo vai è la chiave dell'incubo vai non era qui sicuro ma infatti non era nemmeno qui è qui allora cuore no ho sbagliato ho preso un frammento di lapide di pietra per leggere scritte sul muro vediamo qua così ma muori cazzo muori ok le sono uscito vincito ora questo è un strumento delle sirene pensavo che non ce la facessi questo è un strumento degli altri ok troviamoli tutti a nord della palude ora si può saltare si può andare un po' in qualche altro posto figo e tizia una cosa seria i mobli i mosby ah si che lo capirò da solo è stato rapito e qua no abbiamo capito che non è qui non è qui dobbiamo andare qua sopra anzi no forse può saltare qualcosa da sicuro proveremo tutto questo e qui anche una zona nuova la valuta è stata in là ok super shot alte alture vediamo un po' cosa c'è qui che è questo ok ragazzi ammazziamolo di essere un assassino di moda è qui per prendermi oddio è questo ah ok si rincoglionisce però ho poco tempo per buttarlo giù no ho capito parfallino che ti reprende tutta l'energia eccolo il cane è salvato Bobo ah c'è il porto dietro ok riportiamolo al village però lui posso saltare ok easy easy ok non 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 forse è una cuccia un po' Sarai? Sarà che ho molta scelta. Però devo avere una conchidio segreta. Non c'è che fare che non rire. Chi cazzo è? Fiori, va bene. E allora direi che per questo episodio è tutto. Ai fiori ci andiamo al prossimo. Ciao.